Il 18 maggio per numerose attività commerciali ci sarà così il rientro in campo, l'attività si riavvia, era ora. Stiamo cercando di considerare varie attività di soggetti, di operatori aderenti a confartigianato Taranto per comprendere un po' come ci si sta organizzando, quali sono le difficoltà. Insomma è una macchina che si deve rodare anche perché le disposizioni sono nuove e quindi le prescrizioni vanno rispettate. Iniziamo dal borgo di Taranto, ci troviamo infatti in via Mazzini 141 nel locale, nel salone di Alberto Parrucchieri. E allora vediamo un po' quali difficoltà state avendo o avete avuto nella ristrutturazione, nella riorganizzazione e con quale spirito vi accingerete a riaccogliere i clienti. Prima di tutto buongiorno, sono Alberto. Noi ci stiamo organizzando, diciamo che sembra una nuova apertura, quindi abbiamo ripreso completamente in mano il salone, l'abbiamo smontato di sana pianta e igienizzato in tutte le maniere immaginabili possibili. E niente, stiamo adesso convivendo con questa Codep 19 e di conseguenza comunque la vita va avanti e ci siamo organizzati per affrontare il lavoro nel miglior modo possibile. Parliamo delle disposizioni, perché anche in altre parti d'Italia altri aderenti a Confartigianato hanno detto giustamente ma abbiamo avuto delle disposizioni, delle prescrizioni, però ancora non è tutto perfettamente definito, non ci è tutto chiaro, non per vostra negligenza ma evidentemente per negligenza di chi doveva dare invece disposizioni precise. E quindi poi si creano tutta una serie di problemi, perché nel momento in cui si richiedono determinati prodotti, oggetto delle prescrizioni, poi c'è il gioco al rialzo dei prezzi, quindi c'è una sorta di ricatto, perché poi per comprare l'articolo X, il prodotto X che è appunto imposto dalle prescrizioni, bisognerà sottostare a prezzi esorbitanti. Sì, esempio tra le varie prescrizioni che abbiamo trovato adesso, insomma quello che è arrivato da parte della regione Puglia, faccio un esempio, parla del dispenser elettronico, quindi non di quello manuale, impossibile da trovare e se lo trovi a prezzi esorbitanti, cioè parliamo anche di 400 euro, quindi solo gioco per me. C'è la speculazione. Esattamente, quindi di fatti fortunatamente poi è arrivata una correzione di questa norma, che ci fa usare anche insomma il classico dispenser manuale. Questo è solamente uno dei tanti fattori, siamo alla ricerca, ad esempio, dei guanti, per noi indispensabili, e non è possibile non riuscire a trovare guanti in nitrile o in lattice per la cliente, diciamo che li dobbiamo fornire, ma abbiamo il problema proprio per noi operatori e non credo che in Italia non si producano più guanti, è una cosa assurda. E quelli che stiamo riuscendo a vedere, cioè nel senso che già, come posso dire, le promesse stanno per arrivare, parliamo di un pacco che normalmente paghiamo 5,50, 6, ci stanno parlando di 12 euro, 13 euro. Parliamo ora del rapporto con la clientela, certamente tante signore che si servono da Alberto stavano e stanno aspettando questo momento per farsi nuovamente belle. Ora ci sono le prescrizioni che impongono la prenotazione e poi ovviamente lo stesso distanziamento tra le varie postazioni in cui si opera due metri di distanza. Ecco, vediamo come vi approccerete alla clientela. Ecco, noi abbiamo deciso di lavorare a poltrone separate, cioè a poltrone distanziate, quindi l'affluenza sarà solamente di tre persone, perché io lavoro con due collaboratrici, solamente di tre persone ogni circa due ore. Lavoreremo a poltrona sì, poltrona no, se volete vi faccio anche vedere come abbiamo predisposto. Quindi lavoreremo su una poltrona, quella è vuota, infatti abbiamo anche messo... Con tutto il materiale monouso, usa e getta. Esatto, infatti come vedete stiamo preparando. Abbiamo proprio messo dei divieti, quindi vietato serersi. Lavoreremo su quell'altra poltrona, quella no e in fondo lavoreremo sull'altra poltrona. Le distanze sono di circa due metri e più per ogni poltrona, mentre per quanto riguarda il lavaggio non lavoreremo in maniera consecutiva, perché questo centrale, come abbiamo messo un altro divieto, quindi non si potrà lavorare. Si riparte però, come dire, ci si dovrà un po' leccare le ferite, tra virgolette, a causa di questi due mesi di stop forzato e poi ovviamente ci sarà purtroppo un ridimensionamento delle entrate, perché ovviamente una cosa è fare 40 clienti al giorno è una cosa farne una quindicina. Quindi questo è un danno sia per l'imprenditore, sia per chi dipende in un rapporto di subordinazione contrattuale dall'imprenditore. Il drabbe dell'imprenditore e dei dipendenti. Noi abbiamo provato a fare molte proiezioni del lavoro, quindi abbiamo pensato anche ad allungare gli orari a 12 ore, con le ragazze a scendere in turnazione, però poi alla fine dei conti non ne vale la pena, perché comunque sono due ore di lavoro in più e non vale la pena perché lavoreremo tutte e tre insieme, con il classico orario e stop. Lavoreremo con molti meno appuntamenti, questo sì, siamo scesi tra i 12-15 appuntamenti giornalieri. La vedo comunque motivato ed ottimista, perché ritengo che la sua non sia solo una professione, ma anche una passione. Beh, io sono 25 anni che faccio questo lavoro. Sono 25 anni di attività, solo una decina su Taranto. Prima ero ad Olbian, Costa Smeralda, e quindi lavoravo lì. Poi ho deciso di rientrare nella mia città e sono circa dieci anni che sono a Taranto. Il suo stato d'animo in questi due mesi di blocco forzato? Vedere una saracinesca chiusa, perdere quella routine quotidiana, pensare a quello che potrà accadere. Per chi come me passa 10, 12, 14 ore in salone è stato a togliere il casa. Lei è un iscritto di Confartigianato, ci dica un po' l'apporto, il supporto che Confartigianato ha dato. Se non c'erano loro non avremmo avuto nessuna notizia, brancolavamo nel buio, devo essere sincero. Quindi tutto ciò che sappiamo, le indicazioni, le cose, è grazie a loro. Bene, con Alberto Parrucchieri abbiamo parlato, Alberto ha menzionato il supporto appunto fornito da Confartigianato Taranto agli aderenti. Ed eccoci, chiamato in causa, lupus in fabula, Fabio Paolillo, segretario provinciale di Confartigianato Taranto. Beh, avete dato un supporto materiale e morale agli aderenti in un periodo di buio davvero. Abbiamo fatto quello che era il nostro dovere. Nel momento in cui viene meno, per forza di cose, non per volontà dell'impresa, ma viene meno il lavoro, quindi vengono meno le entrate, non c'è motivo per un artigiano essere iscritto a un'associazione. Per forza di cose abbiamo dovuto intervenire. Siamo intervenuti imbattendoci però in una cosa più grande di noi e di tutti, cioè contro una situazione che neanche la controparte sapeva di cui stavamo parlando. Nel momento in cui la politica non ha saputo dare subito le risposte, le ha date il ritardo, le ha date tentennando, e quindi parlo del Governo nazionale. Poi si è capito a un certo punto che si doveva parlare con la Regione, poi sono intervenuti i comuni. Non è stato facile. Io immagino quale mal di testa ogni sera doveva avere un imprenditore, ha avuto un imprenditore per andarsi a vedere di volta in volta tutta questa burocrazia. Io dico che, usando un'espressione un po' forte, l'artigiano si è trovato in certi casi come il ciuccio in mezzo ai suoni, nel senso che anche le polemiche stesse tra Governo e Regioni, e quindi alla fine l'operatore si ritrova sbattuto da una parte all'altra come una pallina da ping pong. Oggi è venerdì, stiamo registrando oggi venerdì. Venerdì 15 maggio, lunedì si riparte. Lo sapete che ancora non è tutto tutto chiaro? Non è detto che ci sia ancora un protocollo nazionale emesso che possa andare ancora a mutare eventualmente lo stato della situazione. Immaginate chi doveva ripartire, che livello di programmazione, avendo quei soldini, cioè avendo solo, forse per chi ce l'aveva, una sola possibilità, se ha sbagliato quell'investimento, o si ha preso una cosa anziché prendere un'altra, o chi si è blindato dentro con il Plexica, se magari poi non lo doveva fare, voi immaginate... Ha investito a vuoto. Ma ha investito soldi che poi non aveva più. Il problema è stato davvero serio. Adesso ripartiamo. Siamo contenti, siamo in queste ore, stiamo andando visitando. Sono avuto il piacere di venire da Alberto, sto andando anche da altri operatori. Sono tutti fremendo e attrezzandosi. Adesso c'è un problema molto serio però. Il problema serio è che intenzioni hanno le istituzioni. Perché da leggere i giornali di questi giorni, noi stiamo vedendo il resoconto delle ispezioni e dei verbali. Se questo dovesse essere lo spirito, credo che stiano sbagliando. Cioè di colpire per il gusto, o l'interesse di colpire, è sbagliato? Parliamoci chiaro. Le autorità di controllo fanno il loro lavoro. Dipende dall'input che hanno. Se l'input che viene da Roma, o viene da altri organismi sopra, è evidente che se questo è lo spirito, quello di andare a sanzionare, possiamo decretare la fine del tessuto imprenditoriale. Dove vai vai, in qualsiasi settore. Se invece lo spirito è quello di entrare, vedere, suggerire, prescrivere e dire io tra tutti i giorni torno, fammi trovare tutto a posto, è già diverso. Mi auguro che questo sia lo spirito, altrimenti sarebbe veramente la caccia del gatto al tupo. La gente è già esasperata. Lasciamo stare il discorso del benessere, dove tutti più o meno abbiamo i problemi, però ci sono delle categorie che da lunedì, quando apriranno, non è che avranno la fila davanti alla porta, è che la gente i soldi non ce l'ha da spendere. Il parrucchiere è un conto, però i negozi di abbigliamento, le cose, non è che... Avevi problemi già prima, figurati se non li hai adesso. La pioggia di fuoco, l'intervento poderoso o cospicuo, perché ora si è cambiata l'aggettivazione, insomma, dobbiamo anche parlare con la realtà nuda e cruda di attività commerciali che già faranno i salti mortali per riaprire. Immaginate poi quanti altri, purtroppo, terranno la saracinesca, la serranda chiusa. È l'occasione unica, forse, di far riavvicinare le istituzioni e le imprese e le imprese e le associazioni, il cittadino alla pubblica amministrazione. Cioè, in questo momento ho bisogno di unità e di intento. È chiaro, nessuno sta dicendo che è tutto a posto, andiamo come eravamo prima, però, visto che le regole non solo non sono ancora arrivate alla vigilia, ma io immagino che ne arriveranno altre anche dopo, e date anche il tempo e la possibilità, che sia dato il tempo e la possibilità a tutti gli imprenditori di mettersi in regola. Perché noi non abbiamo trovato neanche uno di quelli che non voleva mettersi in regola, ma io vengo adesso da un altro collega di Alberto che mi ha detto che non ha trovato, non riesce a trovare le mascherine. E come si fa? Cioè, non è che le può inventare. Giustamente la gente, gli imprenditori vogliono seguire i protocolli, vogliono stare in regola, non riescono. E non riuscire, non può, il fatto che non riesco perché non le trovo, non può essere oggetto di sanzione. E così passiamo da una attività commerciale all'altra. Siamo infatti al quartiere Tamburi di Taranto, in Via Verdi, presso Air Studio Silvio, di Silvio Lippo. Beh, questa è un'attività commerciale che serve per noi maschietti, per farci belli i capelli, la barba e quant'altro, un'attività appunto di parrucchiere per uomo. E intanto devo dire che entrando ho visto davvero un rispetto rigoroso di tutte le prescrizioni, le distanze, i limiti appunto tra una postazione e l'altra demarcati da strisce appunto adesive attaccate sul pavimento. Insomma, il rispetto, l'ottemperanza delle prescrizioni è doveroso. E quindi ben venga questo. E allora Silvio, intanto, prima di parlare di come vi state o di come vi siete adeguati, parliamo un po' di questi due mesi e mezzo di blocco, questo lockdown che certamente ha influito. Allora, inizialmente, avendo la notizia direttamente dal nostro Presidente del Consiglio, sinceramente mi sono cadute le braccia. Perché comunque, avendo un'attività, una famiglia, un dipendente, di mantenere il tutto, comunque alla fine, il giorno dopo, ho fatto mente locale della situazione, era giusto fermarsi perché in queste condizioni, anzi, secondo me ci si doveva fermare molto prima. Diciamo che è stata sottovalutata la cosa e poi... Infatti, perdonami Silvio, il 31 gennaio, con pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale il 1 febbraio, il Premier Conte aveva dichiarato l'emergenza sanitaria. Ora, se il 1 febbraio tu mi stai dicendo che c'è un'emergenza sanitaria, non può intervenire l'8 e il 10 marzo quando c'è stato il blocco? Cioè, voglio dire, in questi 40 giorni si sarebbe evitato che il virus dilagasse, anche questo. Diciamo, lo si è sottovalutato, lo si è preso un po' sotto gamba? Per poi, magari, avere le restrizioni di colpo... Comunque, niente, è stata dura perché comunque, per quanto mi riguarda, avendo tante spese, avendo, come vi dicevo prima, comunque sono riuscito a rispettare tutte le mie scadenze e niente. Ora puoi ripartire tranquillo. Sì, sì, diciamo che ripartiremo con molta calma perché il protocollo sanitario, il protocollo regionale, diciamo, le linee guide dell'INAIL sono molto restrittive. Infatti, ieri abbiamo fatti, forse siamo stati uno dei primi a fare un corso, io e il mio collaboratore, per quanto riguarda la prevenzione, per il Covid, no? Un corso per la prevenzione, per come comportarsi, con tutte le linee guide INAIL e i protocolli della Regione Puglia. Qualcuno, anche altri tuoi colleghi, hanno detto, ma molte volte anche da parte della Regione c'è stata un po' di incertezza nella indicazione precisa, appunto, di queste prescrizioni, perché poi alla fine diventa un problema per chi deve applicarle, magari, all'ultimo momento e si vede costretto poi ad acquistare, appunto, quei prodotti, quegli strumenti prescritti, magari anche a prezzi che salgono alle stelle, perché purtroppo poi venite presi per la gola, nel senso non di appetito, ma venite presi per la gola, nel senso di quasi ricatto, nel senso che vengono imposti dei prezzi altissimi, ai quali voi purtroppo dovete, tra virgolette, soggiacere e obbedire, perché queste sono le prescrizioni e queste devi applicare. Sì, e comunque le linee guide ufficiali, comunque, tenete presente che sono arrivati lunedì pomeriggio, lunedì sera, su tardi. Cioè, noi si apre comunque, come tutti sapete, il 18, abbiamo avuto giusto un giorno e mezzo per organizzare corsi, sistemare il locale con tutte le linee guide previste dalla legge. Diciamo, Silvio, che magari il vostro lavoro sarà ancora più considerato, apprezzato, qualificato professionalmente. Certo, certo, Luigi, certo. Sì, sarà molto più qualificato, perché comunque ci sarà molto più ordine, non troverai più massa in sala d'attesa, magari sai, i discorsi, le cose. Questo è un locale che non tanto, comunque si parla di calcio e di politica, se vogliamo. E' felicissimi su questa cosa che non si parla di politica. Di calcio, magari. Di calcio, sì. Di calcio, magari ci può anche stare. Si parla di Juventus è meglio, magari. E a chi lo dici, sono juventino. Non ce l'avamo messi d'accordo. No, no, assolutamente. Ora, scherzi a parte, credo che ci sia anche l'ansia di molti tuoi clienti che vogliono, da un lato, ovviamente, farsi belli, no? Perché, insomma, però dall'altro c'è anche, perché puoi andare da un parrucchiere, come andare dall'estetista. Cioè, quel momento di aggregazione, perché si crea, no? Un rapporto di familiarità. Sì, è vero. A volte siamo, diciamo, io dico, siamo come i preti, no? Perché il cliente comunque si confida, ti dice... Si sfuga, racconta i fatti. Racconta un po' di tutto. E niente. Bene, Silvio. Allora, che dire? Da lunedì 18, una nuova era con l'entusiasmo di sempre. Sì, quello sempre, quello sempre. Comunque l'entusiasmo non manca mai, anzi. Non vediamo l'ora di iniziare, io e il mio collaboratore Adriano, perché siamo stimolati per sempre, per migliorarci giorno per giorno. In bocca al lupo. Crepi, crepi. Grazie a tutti. E proseguendo così il nostro viaggio attraverso le varie attività commerciali, ci troviamo a Taranto, in via Ettore d'Amore, in un centro benessere, nel famoso, rinomato Centro Polverino di Patrizia Polverino, che ho qui al mio fianco. Ho avuto modo di visitare la struttura, mi diceva 200 metri quadri, quindi c'è tutto lo spazio per applicare il distanziamento. Vediamo un po' come vi siete organizzati per il grande rientro, il riavvio. Allora abbiamo la fortuna di avere un centro, come le diceva, molto grande, quindi abbiamo anche la possibilità di fare un percorso sia nell'entrata che nell'uscita, perché ci abbiamo insomma due porte. Quando arriverà il cliente abbiamo costruito appunto dei kit dove comunque ci saranno delle cose monouso, quindi nella realtà il cliente utilizzerà dalla mascherina al suo copri scarpe e quindi le verrà dato questo, disinfetterà le mani con appunto il disinfettante apposito e verrà fatto accomodare all'interno delle cabine. Nelle cabine noi abbiamo già, all'interno ce ne sono diverse, quindi ognuno avrà la sua cabina con il suo operatore. Diciamo che abbiamo anche creato dei percorsi, specie andando nel periodo adesso estivo, dei percorsi anche sul dimagrimento che potranno essere anche fatti in maniera anche veloce, perché da un test che riusciremo a fare, un test personalizzato, si chiama body test, dura un minuto, il cliente non avrà nemmeno necessità di essere toccato, quindi diciamo che anche un tipo di test sia veloce ma anche molto sicuro, dove comunque si vedrà la massa magra, la massa grassa, e quindi anche fare un percorso all'interno giusto per il suo trattamento. Ma girando un po' per le stanze, per i 200 metri quadri del centro polverino, mi ha incuriosito, mi ha attirato questa struttura. Ho detto ma non è un'astronave, non è una moto, di cosa si tratta? Allora questa è una macchina molto innovativa perché praticamente permette un dimagrimento attraverso l'infrarosso che va a riscaldare praticamente il tessuto adiposo e il cliente comodamente steso riesce a fare del movimento, quindi in questo periodo anche che c'è stato questo tipo di rallentamento, riesce praticamente attraverso il movimento che comunque è lungo nel percorso dei 40 minuti, riesce praticamente ad attivare il metabolismo aerobico. Ecco, è stato un periodo molto lungo, oltre due mesi. Da un lato così l'amarezza da parte vostra di non poter lavorare, ma non è solo amarezza, c'è anche purtroppo una ricaduta economica negativa da un lato. Dall'altro c'è l'ansia del cliente che vuole appunto godere del benessere che voi offrite. Penso che ci sarà l'ansia di entrambi, vostra e dei clienti. Sì, certamente sì, perché comunque già da tempo io ho avuto anche modo di fare qualche telefonata, effettivamente le persone erano anche un po' disperate sotto alcuni aspetti su quello che poteva essere. Si vedevano brutte. Sì, brutte, poi nessuna donna diceva... La virgolette, ecco, ora verrò censurato. No, però... Meno belle, ecco. Meno belle. E comunque per ogni donna magari avere cura di sé è una coccola anche che si fa e comunque penso che sia stato per tutte le donne una grande mancanza, sia per un discorso proprio di cura personale, ma anche di rapporti sociali, insomma. Per concludere, vi siete attrezzati rispettando tutte le prescrizioni imposte? Sì, sì, certamente. Abbiamo previsto la sanificazione sia ambientale che quella dei condizionatori, dove comunque tutte le norme che ci sono state anche consigliate appunto anche dalle associazioni e da quello che era anche, diciamo, detto anche dall'INAIL e dall'ordinanza che c'è stata fatta appunto dalla Puglia. Realmente riusciamo a percorrere tutto quello che è giusto, insomma, per rendere sicuro il trattamento e far stare il cliente anche in modo rilassato, diciamo, e da rendere la sua permanenza all'interno del centro in tranquillità, in serenità di quello che poi è il percorso, diciamo, che farà. Bene, e con Patrizia Polverino concludiamo appunto questo giro tra alcune attività commerciali. Abbiamo voluto, in buona sostanza, farvi vedere come ci si attrezza per il rientro in attività e poi abbiamo voluto anche un po' sondare, diciamo, l'aspetto umano, l'affetto dell'esercente, del titolare dell'attività nei confronti del cliente, ma è comprensibile, come ho detto, anche per un momento proprio di socialità, l'ansia del cliente di ritornare appunto così nei suoi posti preferiti, che sono appunto il parrucchiere, l'estetista e quant'altro. In bocca al lupo a tutte le attività commerciali.